Cosa rende una videoanimazione professionale, coinvolgente e persuasiva? Il suo segreto risiede nel metodo di realizzazione. Vuoi sapere come nasce una videoanimazione di presentazione animata? Questo è il nostro modo di lavorare. Come primo step riceverai un questionario semplice e veloce. Ti aiuterà a ragionare sugli aspetti essenziali da inserire nel video e ci permetterà di raccogliere tutte le informazioni necessarie a raccontare la tua storia. Le nostre domande ti guideranno nell'identificare punti di forza, parole chiave e tutti gli aspetti più interessanti dei tuoi prodotti o servizi. Il questionario passerà poi nelle mani dei nostri copywriter che trasformeranno le informazioni ottenute in uno script. Lo script è un testo preparato appositamente per i video, con il ritmo, lo stile e la lunghezza più adatta al video racconto. È la narrazione alla base della tua animazione. Ti chiederemo poi di raccontarci le tue eventuali richieste o idee relative allo sviluppo grafico della storia serviranno a costruire una prima sequenza grafica del tuo video, creata sulle tue esigenze in base allo script approvato. Lo script verrà quindi consegnato all'attore che avrai scelto e registreremo la sua voce in uno studio professionale. Come ultimo passaggio, i nostri animatori daranno vita alle parole. Alle sequenze grafiche verranno aggiunte la musica, gli effetti sonori e la voce narrante del nostro attore. Il metodo di lavoro di Presentazione Animata ti offrirà la possibilità di approvare ogni singolo passaggio oppure di richiedere revisioni al lavoro svolto. Metterà a tua disposizione professionisti esperti di video marketing e ti assicurerà un risultato finale di qualità e in alta risoluzione. Visita subito il nostro sito www.presentazionianimata.it e scopri come trasformare la tua azienda in un racconto animato personalizzato. Grazie per la visione!